Continua a scendere il numero dei contagi per ciò che riguarda la città e la provincia, secondo il report inviato quotidianamente dall'ASP. 107 sono i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, 25 pazienti di Gela, 24 di Niscemi, 23 di Caltanissetta e gli altri suddivisi nei vari paesi della provincia. E un leggero incremento del numero dei ricoverati, siamo a 43 nei giorni precedenti, erano 42. E intanto a Caltanissetta i positivi sono 651 con 5 ricoverati, mentre a Gela i positivi sono 699 con 9 ricoverati. Sono ancora tutti i paesi della provincia che hanno dei cittadini positivi e tuttavia ci sono dei paesi che non hanno cittadini ricoverati come Acquaviva Platani, Bonpensiere. E poi ancora a Campofranco, Milena, Montedoro, Resuttano, Sommatino, Butera e Vallelunga. Sono 5 i pazienti provenienti da fuori provincia ricoverati all'ospedale di Caltanissetta. 2.942 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia.